Perfetta! Forse era un po' bassa in fondo Perché dovete implementare che su quella situazione lì dovresti attaccare tu di seconda Cioè la prima opzione dovrebbe essere il tuo attacco di seconda e poi forse l'attacco del compagno Cioè serve anche se mi massacrano il compagno, Dio di Dio, gli do una mano Invece di dire eh, hanno battuto sempre su quello Luca non te la fai mettere le miscina lì, fatela aprire completamente all'asta e vai e gli segui la testa Ma che sto apri non super Dì, 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 dì Eh, peccato a muro eh No? Scusa, scusa Fino, scusa Ma ragione, ragione, ragione Ora, gioca in rapidità In rapidità intendevo alzare la palestra di prima rusca e lui attaccava il giro dietro Evitiamo di far fatica inutile quando dal punto è già vostro Scusa, scusa Fino, scusa Fino, scusa Fino Non la fintare Questo vizio perdilo che non ci serve Scusa, scusa Fino, scusa Fino, scusa Fino, scusa Fino Scusa, scusa Fino, scusa Fino, scusa Fino, scusa, scusa, scusa e non ho capito Nico perché non hai saluto e hai tirato un tuono cioè io veramente rimango basito cioè non c'è cosa più stupida in questo momento di battere corto perché immagini di questo giochino qua devi solo saltare in verticale e non chiudere il braccio ma sul fondo del capo e punto si, palla signori allora non ho detto che dovete fare schifo ho detto che dovete cercare di aprirvi la ricezione se la ricezione non viene aperta attacchi in nocca è ovvio che la ricezione non casca ok? se cascassi questa palla dovremmo incazzarmi ok? prima cosa seconda cosa se hai la difesa buona e stai alla vicina perché è al centro del campo da nano beso sei, ti ripeto, sei deficiente ok? ci sono dei problemi gravi ma mentali non sono gli effetti, sono mentali ti ho detto di non chiudere il colpo d'attacco perché il tuo tempo non deriva dal tuo braccio che si chiude il tuo tempo deriva dal tuo salto sono due cose separate tu non devi usare il salto per chiudere il colpo tu salti poi in caso di ricevere la ball se no è questo polso alto l'obiettivo sono gli otto metri non gli uno, gli due, gli sette sono gli otto l'obiettivo no è un pelo, si, è corto è corto, è corto stai 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 ora fallo adesso bene, forte fuori è bello forte fuori è vero oh ma sei il muro potevi usare le tue mani e chiuderla eh che ci vuoi? beh, fa piacere no? che il muro non pensa ai muri è bene cioè insomma sono quelle cose che fa piacere molto bello oh non c'è uno che abbia ancora fatto un punto palla corta, corta ok state ma nessun punto sì scusa palla state un punto cioè cambiateli con quelli dietro avvicino a te però no Luca eh fa tutto bene se giocano a questa vera cosa c'è cosa più sbagliata che batte il polso eh bravissimo Simo occhio mozzo la recezione è tanto bassa tanto bassa tanto tesa non c'è è troppo secca scusa bravo secca vai vai eccole qua punto vostro estate sì 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 parla 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 ok cambiatemi ma nessun punto sì palla ma perché ma perché ma perché state ma la parte più no eh no anter ecco l'eccoivare ecco l'eccoivare ecco l'eccoivare il crostone attaccato bravo Luca stai 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 tu è? bravo è così? pardon vai ora vai ora ok si 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 una Grazie. 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 Non mi spiegate con il cappello, non mi spiegate con il cappello, non mi spiegate con il cappello. Non mi spiegate con il cappello, non mi spiegate con il cappello, non mi spiegate con il cappello. Non mi spiegate con il cappello, non mi spiegate con il cappello, non mi spiegate con il cappello. Non mi spiegate con il cappello, non mi spiegate con il cappello, non mi spiegate con il cappello. Non mi spiegate con il cappello, non mi spiegate con il cappello, non mi spiegate con il cappello. Non mi spiegate con il cappello, non mi spiegate con il cappello, non mi spiegate con il cappello. Non mi spiegate con il cappello, non mi spiegate con il cappello, non mi spiegate con il cappello. fate quello che volete lo do io lo stop